oh picciotti allora now sono a filadelfia perché abbiamo organizzato col carini io di una bella serata e tutti su ca facciamo un saluto ma la cosa non è ca e che ho presente non ne siamo a mangiare ca che si mangia fuoco di ciao carne in brasilia steakhouse ma la cosa bella è ca si mangia come si mangia in incontinuazione cioè fin quando non ti fermi ca si avrà visto un locale richiesto in sicilia ho consumato perché la mangiano sempre ma la cosa che ci ha fatto impazzire più bella meno male che c'è il testimone appena sono entrato qua c'era un cameriere appena si va a filadelfia fa sa sa salvaggio ma lei chi rappara scuola eccolo qua io vengo a filadelfia ciao e trovo un palermetano saluto a palermo e forza palermo sempre bravo speriamo di tornare in seria presto speriamo speriamo che i tempi che corrono e ora andiamo a mangiare giusto e vi spiego la particolarità di questi ristoranti brasiliani vedete abbiamo tutti alzate il cavo pezzino vedete questo è vero questo è vero questo è vero questo praticamente è verde ricca e ricca è rosso quando tu lascia pirti il nuovo tavolo tipo fish e li ti portano sempre da mangiare sempre sempre quando vuoi proprio che ho niente giri un coso ci mette il rosso ora secondo te che ci sono carinisi anche che si vivono qua oggi che fate green o red green è il joy stasera picchio ruchila ma visto che c'è un ristorante brasiliano ma ci sono pure i brasiliani per ora verde si mangia poi si vede allora sono passati circa dieci minuti e già cominciano i rossi guarda io già rosso 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 però fra poco cosa fanno qua mangiano l'insalata e poi il rosso diventa red e cominciano a mangiare un red diventa green un red diventa green giammi a capo figurati siamo quasi alla fine della cena dunque arrivò un dolce da lì ora vede la stiamo dolce sano sano vi volevo fare vedere il caffè a camomile a camomile a camomile praticamente si dice da noi acqua e pui praticamente in america sarà usanza non lo so quando non ti vede lo dovessimo comprare o venivo a pasticcere per la parte appena in cibo che non mi ha detto oggi ora vengo a finire da lecca happy bag e poi l'abbiamo aspetta tanti auguri e speriamo che questa associazione duri tantissimo per carini i o g ci siamo tutti i nostri amici